Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, interrompe la regolare programmazione. Oggi dovevo uscire un video sul Boss The Clan, uscirà domani, pazienza, perché la notizia di oggi è una bomba atomica, davvero. Allora, tra poco uscirà la versione 3.10, non introduce niente di nuovo dal punto di vista dei contenuti, quindi non sarà una cosa atomica come è stata per esempio l'ultima, la 3.0 con la torre sventura e tutto quello che ci va dietro, ma potrebbe essere dal mio punto di vista quasi più importante dal punto di vista della qualità di gioco, perché fondamentalmente questa patch va a migliorare l'intelligenza artificiale di molti campioni, che erano veramente molto stupidi, e adesso invece non lo sono più, quindi benvenga, ma sono veramente tanti e le cose sono migliorate molto, quindi andiamo un po' a vedere che cosa è cambiato. Allora, Zavia, Karam e Leraril, le cito tutte insieme per lo stesso identico motivo. Non utilizzeranno più la skill che brucia tutti i veleni in un colpo solo, in automatico, contro il Boss The Clan. Stupendo! Perché era la skill che li rendeva inutili fondamentalmente, soprattutto Zavia, che è anche una velenatrice tremendamente potente, perché può mettere fino a tre veleni con la prima skill, può mettere due veleni, se non ricordo male, con la seconda skill, quindi è una velenatrice ottima, ma non si poteva utilizzare perché lei continuava ad utilizzare in continuo la sua terza skill, che brucia tutti i veleni istantaneamente, e di conseguenza annullando tutto il bene dell'accumulare di veleni nel corso del tempo. Ma adesso non lo fa più, e io sono molto curioso di vedere. Ho soltanto Leraril, ma va benissimo, Zavia non ce l'ho, spero che mi esca, perché è meglio di Leraril da questo punto di vista contro il Boss The Clan, ma come funzionano queste skill? Bruciano istantaneamente non solo il veleno in questione, ma anche tutti gli stack accumulati. Quindi supponiamo che ci siano otto veleni attivi, e ognuno di questi è stato potenziato da Visir, per esempio, 40 volte, in un colpo solo si rischia di fare anche tipo 16 milioni di danno in un turno, che è tantissima roba davvero. Per esempio, il mio team inamazzabile attuale, quello con due mangiauomini recentemente modificato, è in grado di fare 45 milioni a chiave, più o meno, con Banshee Gelata. Supponendo che io ti rivia Banshee Gelata e metta Leraril, e arrivi fino al 49esimo turno in automatico, per poi togliere l'automatico al 49esimo e utilizzare questa skill in manuale, capite che il danno diventa un pochettino importante. Tenendo conto che il Boss The Clan si affronta due volte al giorno, al massimo, per quella particolare rarità, visto che l'unica cosa che mi importa è arrivare ai 70 milioni di danno, si può tranquillamente fare un turno in manuale, no? Ecco, quindi, questo potrebbe spostare un pochettino più avanti alcuni campioni che avevo in programma, ma vedremo, vedremo. Allora, invece, Venere, utilizzerà la skill che mette BrucciHP solo ed esclusivamente se non c'è. Nel momento in cui BrucciHP è presente, non la utilizzerà più, quindi, per esempio, se riesce a essere attivo grazie ad altri campioni che lo mettono, oppure se c'è un campione che estende la durata dei debuff e il BrucciHP resta attivo, allora lei continuerà ad utilizzare la skill che riduce la difesa e mette in devolimento, oppure quella che avvelena, quindi grandioso, diventa un campione ulteriormente utile per il Boss The Clan, ma già lo era, devo dire, Razin smette di utilizzare ottimo la skill che riduce il contatore, inutile, inutile contro il Boss The Clan, quindi ancora meglio, Netril utilizzerà fondamentalmente soltanto la prima, che è quella che avvelena, ora, Netril per quanto mi riguarda non è mai stato un vero e proprio campione da boss, e adesso mi arriverà la shit torna addosso, mi rendo conto, ma non importa, perché io penso che per le sue statistiche, per come è costruito il campione, sia molto più potente altrove che specializzarlo per il Boss The Clan, se proprio dovete specializzare Netril per il Boss The Clan vuol dire che ne avete due, quindi ecco, però comunque adesso è ulteriormente più potente, utilizza soltanto la prima, quindi avvelenerà a bomba, potete anche utilizzare lui senza alcun tipo di contraattacco, perché tanto avvelenerà, potendo utilizzare soltanto la skill che avvelena, di fatto. Poi, Foli non utilizzerà più la sua terza skill contro il Boss The Clan in automatico, non so perché, l'unica cosa che faceva era appunto attaccare tutti i nemici, ridurre un pochettino il contatore di turno, cosa che ovviamente non avverrà contro il Boss The Clan, però basta, i nemici uccisi da questa skill non possono essere risuscitati, vabbè, non potrete ammazzare il Boss The Clan, quindi non so perché, onestamente, magari per utilizzare più spesso le altre, non mi ricordo, ho la pagina di Ayumi Love sotto, vediamo, può mettere, ah, perché mette con la sua seconda skill, mette Sanguisuga, e mette riduci difesa con la prima, quindi ok, per non sprecare turni e per tenere sempre attivo Sanguisuga e riduci difesa, vabbè, si poteva anche tranquillamente non fare. In genere, Foli non si utilizza più di tanto dal Boss The Clan perché mette, appunto, Sanguisuga e riduci difesa, ma perché è immune allo stordimento. Di conseguenza, è un ottimo target, se voi lo fate in modo che venga colpito lui, non avrete problema dello stordimento perché lui non può essere stordito, quindi altro da aggiungere direi di no. Poi, Autar non utilizzerà più la terza skill, vabbè, quindi fa veleni e attacca con la prima, benissimo. Poi, Drekstar non utilizzerà più la sua seconda skill, che è quella che provoca. Bene, perché così si concentra sul fare la prima, che è quella che va a bruciare effettivamente, quindi meglio così. Elderscarg utilizzerà, ah, inizierà la battaglia contro il Boss The Clan con la terza skill, se non ricordo male, buono. Fain inizierà la battaglia contro il Boss The Clan utilizzando la sua seconda skill, che è quella che mette i veleni e il riduci attacco. E qui mi sorge un dubbione, perché in teoria dovrebbe essere già così. Non l'ho provata ancora contro il Boss The Clan, se non nel team in ammazzabile, per vedere se era meglio di benshi gelata. E in tutte le altre battaglie lei utilizza già questa skill per prima. Quindi mi è venuto da pensare che significa che in tutte le altre battaglie utilizzerà la terza, quella che mette i riduci difesa e indebolimento, dal Boss The Clan invece partirà con la prima, che va benissimo, va benissimo così. Se è come dico io, Fain, già era buona, adesso diventerà un animale. Diventerà un animale, davvero. Non vedo l'ora di provarla da questo punto di vista, se fosse effettivamente così, perché ci si può togliere davvero tante, tante, tante soddisfazioni. Quindi benissimo, benissimo, non vedo l'ora. Poi, allora, Robar, vabbè, utilizzerà per prima la terza, che è quella che riduce la difesa, se non ricordo male. Crypt King, non me lo ricordo, onestamente. Ce l'ho, tra l'altro ce l'ho lì in cantina, ma non me lo ricordo. Dunque, non utilizzerà più Elemental Unity sui obiettivi, se non sono sotto una brucia HP. Ah, quindi lui prima brucia e poi comincerà a utilizzare le altre, ok. Oh, questa è una cosa buona. Cacciatore Reale non utilizzava mai in automatico la sua seconda, la sua terza skill, quella che fa una botta di danno perché ignora il 100% della difesa. Adesso sì. Allora, non è mai stato un vero e proprio problema, perché lui è un campione d'arena pura, si può utilizzare anche in altri contesti, ma è un campione d'arena pura. Questa è una skill che, se costruita adeguatamente, riesce a fare anche 180, 200, 250, 1000 di danno critico con un colpo, che significa fondamentalmente ammazzare l'obiettivo, anche se a scudi, anche se è protetto, non c'entra niente. Di solito è una cosa appunto che si utilizzava in manuale, in arena, però in determinati contesti probabilmente si potrebbe utilizzare anche in automatico, quindi Benvenga che lo fa. Trunda utilizzerà la seconda skill prima della terza. Ora, devo ancora costruirla, quindi non so esattamente quale delle due faccia più danno. Vediamo un attimo i moltiplicatori. 3, oh, 6. Quindi sì, la seconda skill fa il doppio del danno della terza. È vero che la terza potenzialmente può fare due colpi, perché se le date pochissima precisione, lei non stordirà nessuno, lei non brucerà nessuno, e farà due colpi, perché la skill dice così, se non stordisce, allora fa un secondo colpo extra. Quindi in realtà, dipende tanto da come la costruite. Io, personalmente, la mia pensavo di farla per danno purissimo, e utilizzarla, appunto, per utilizzarla in arena. E basta. E quindi la farò con zero precisione. Se qualcuno la fa anche con un po' di più precisione, perché non gli va bene di utilizzarla solo in arena, ma vuole utilizzarla anche in altri posti, probabilmente potrebbe essere utile questa cosa qua. Specie se intende utilizzarla in difesa dell'arena. È un ottimo campione da difesa dell'arena Trunda, devo dire, come fonte di danno. Quindi perché non farlo? Poi, Ragno. Utilizzerà più frequentemente queste skill in automatico, se non è in cooldown, insomma, se non è in ricaricamento. Va bene. Glowing Mark. Scusatemi, ma per le skill in inglese non me le ricordo, io ho sempre giocato praticamente solo in italiano. Quindi andiamo un attimo a vedere qual è. Anche perché, non dico che Ragno sia un pollaccio, perché non è proprio un pollaccio, però non è un campione stratosferico. L'unica skin importante è quella che riduce la difesa e ha una percentuale un po' più bassa di mettere l'indevolimento, però la versione è piccola. Però, siccome può farla ogni 5 turni, coi libri la fa ogni 5 turni, capite anche voi che è una cosa che in genere non si usa più di tanto. Cioè, ci sono campioni migliori, assolutamente migliori a fare questo. Anche semplicemente ridurre la difesa in genere è già più che sufficiente. Ci sono campioni rari come guerrigliera che lo fanno ogni 3 turni, non ha nessun senso costruire un campione che lo faccia ogni 5. Quindi, no, in genere Ragno non è un campione che si utilizza più di tanto. Quindi lui utilizzerà più spesso questa skill, evidentemente. Poteva capitare, in difesa dell'arena, che lui tendesse a utilizzare altre skill. Ragno è un campione però che non usa nessuno, quindi, vabbè, meglio così, più intelligente. Invece questa è buona. Madame Serris utilizzerà più frequentemente la terza skill, quella che toglie tutti i buff e mette riduce attacco e riduce difesa, quando ovviamente non è in cooldown. Ottimo! Perché lei è sempre stato un campione stratosferico per l'arena in attacco. Ma in arena no. Perché nel 99% dei casi utilizzava la seconda skill, quella che fa un po' di danno, non tanto, e ha la possibilità di rimuovere buff e se li rimuove mettere una strizza. È una strizza reale, tra l'altro. Probabilmente perché la sua intelligenza artificiale pensava prima a rendere inoffensivi, tra virgolette, gli avversari e poi mettere gli alleati nelle condizioni di fare danno. Ovviamente questo non può incastrarsi bene con gli altri campioni e quindi, chissà, potrebbe essere ora un campione veramente molto buono anche da utilizzare in difesa dell'arena. Insomma, prima direi assolutamente proprio di no. Per quanto ci sia gente che la utilizza anche in difesa. Poi, Akorn Schianteroi non utilizzerà la terza skill, quella che rischia di ammazzarlo. Evidentemente quando ci sono i presupposti perché lo ammazzi non la utilizzerà più. Ne ho visti un sacco di Akorn ammazzarsi malamente da soli. Era sempre una cosa super divertente. Adesso Akorn l'ho trovato anche io da poco. Devo dire, mentre cercavo Cervino, inutilmente ho trovato Akorn, vabbè. Però non lo utilizzerei in arena. In difesa dell'arena è un signor campione. Tantissimi lo utilizzano perché si può fare con tanta resistenza e fare in modo che lui poi ripulisca tutti gli alleati. Però in genere si usa per quello. Questa skill fa anche un discreto danno però si attiva, praticamente lui perde un po' di vita per fare danno. Ma funziona anche nel caso in cui lui possa morire. Insomma, questa skill può ammazzarlo fondamentalmente. E capitava molto spesso che lui si ammazzasse per davvero. Quindi adesso magari l'intelligenza artificiale calcola un pochettino gli HP che ha a disposizione e la farà soltanto se ci sono possibilità di rimanere in piedi. Ecco, probabilmente credo che funzioni così. Cuore glaciale è quella che è stata pompata di più. Adesso è diventata un animale... Allora, cuore glaciale è l'animale da cavaliere pirico. Ne avete una? Va benissimo. Ne avete due? Meglio ancora. Io ne utilizzo due con grandissima soddisfazione. Però avevo un problema. Ma non soltanto lei in realtà ha un sacco di campioni. Hanno il problema di sprecare le loro skill migliori contro lo scudo del cavaliere. Adesso lei non lo farà più. Lei non sprecherà più. Cerca cuori contro lo scudo calato. Ma invece continuerà ad utilizzare la sua skill primaria che attacca quattro volte finché lo scudo è giù. Questo significa che se ne portate due di cuore glaciale 8 punti potete tranquillamente toglierli. 8 punti di scudo potete tranquillamente metterli da parte perché le toglieranno già loro. Significa che potete portarvi due cuore glaciale e due campioni senza avere multi-hit sul primo attacco. Non c'è nessun problema. Perché 8 punti ci pensa cuore glaciale a toglierli via. Le due, insomma. Se ne portate una, 4 punti. Che è tantissima roba. È davvero veramente tanto. Io speravo, onestamente... Allora, già questa cosa è fantastica. Contro cavaliere pirico è stupenda. Però io onestamente, piuttosto che questo perché già utilizzandone due era possibile, insomma, arrivare dal boss pronti per tirargli giù lo scudo e poi cominciare a ridurgli il contatore. Non è mai stato un grosso problema. Per me almeno. Soprattutto se la fate un po' veloce. Però il problema principale di cuore glaciale secondo me è che utilizza prima la sua seconda skill quella che fa attacco ad aria e dopo utilizza, cerca cuori, la terza quella che fa tanto danno. Perché è un problema? Contro il ragno se non ti porti dietro qualcuno che ti ne vada il contatore ad aria di tutti dei ragnetti soprattutto non puoi aspettare due turni. Perché magari riesci a prendere due turni di velocità sul ragnone sul ragno madre insomma, chiamiamolo così ma i ragnetti sono troppo veloci cominciano a mangiarti subito quindi hai solo quel turno lì per sparare cerca cuori sul boss e ammazzarlo. Perché è importante? Perché se tu ti porti per esempio Fane attacca e mette riduci difesa e indebolimento sul boss poi due guardie reali che fanno il mega danno e poi due cuore glaciale che fanno subito immediatamente cerca cuori e voi avete finito la partita in 5 secondi 10 secondi 6 secondi quanto serve? Il tempo che si attivino queste 4 cose avete vinto che sarebbe strepitoso sarebbe grandioso però non lo so non lo so io temo che lei in tutti gli altri contesti continuerà a utilizzare la sua seconda skill prima della terza sempre per la stessa filosofia prima rendo inoffensivi tra virgolette i miei avversari mettendogli un riduci precisione in questo caso e dopo comincio a fare il danno serio però comunque già questa cosa è tantissima roba allora io non avrei altro da aggiungere se non che sono molto euforico per questa nuova release anche soltanto per il danno che può fare l'Eneril dal boss del clan sarebbe fantastico non vedo l'ora di mostrarvelo se funziona a dovere ma penso proprio di sì insomma non vedo l'ora di mostrarvelo perché è una cosa che vi fa fare salto di qualità ma proprio dal giorno alla notte è veramente strepitoso comunque vabbè allora avrete capito che sono veramente molto contento di questa nuova patch scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate se vi garba se non vi garba spero di sì perché è davvero interessante pollici alti se avete gradito e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti